bello a tutti ragazzi sono Anghesius e io sono Alex e oggi siamo sempre sotto Natale si con il bellissimo stiamo facendo tutto in una volta solo ragazzi giochiamo a un horror mamma mia tantissimo che noi giochiamo a un horror è quello che se vi ricordate che non funzionava al momento dello speciale ma sono riuscito a farlo aggiustare perché me l'aveva chiesto anche una persona sul canale I know io sono partito così ma forse cosa vuoi fare? forse un po' troppo si si può muovere oh che figata oddio sono una femmina c'è una femmina o un maschio? oh ma che iphone è cos'è un ipad gigante hello pronto aspetta ancora aspetta hello pronto chi è oh oh non ho visto niente ero occupato a guardare la grafica del telefono akari cazzo è akari chi è akari? ma ci sono partito un pezzo di storia io un po' oddio ma che? vabbè uh finale 1 hello se vuoi quanti finali ha? hey ah ok noi buttiamo tutto sui no vai 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 io direi di andare alla television e accendere e andare one direction not willing ah non c'è ragione di accendere la tv la tv ok la lampada la lampada la lampada la lampada coso? cosa? è mister potato o è Homer? ancora ancora porca perchè ancora? perchè il telefono? hello non si dice e non risponde nessuno e akari no? rispondimi per favore cioè allora oh chi cazzo sei? comunque esiste una cosa che sul telefono esce il nome di chi ti chiama nessuna nel replay mi sembra che ne sia nessuna risposta hey where are you? hey where are you? hey dove porca miseria sembra quasi sembra quasi vivo ma quindi me ne andrei ma si può andarselo? oh oh porca miseria no no ma invece si può perchè è morto da solo? perchè gli si è staccato la testa? si è spaventato con quello non posso sopportare non posso sopportare questa stanza dove sei? no sta diventando sempre peggio no c'è una lettera c'è una lettera solo un letto 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 ah e sarebbe ignorare le cose ah infatti è andata a letto e basta sempre questa ma è un lei o un lui? si è una femmina credo cos'è? ne ho abbastanza di questo va bene? oh oh il tavolo per favore per favore uccisori ma che cazzo cosa? c'era una lettera prima che non hai per niente cagato tu ma chi sei? pippo forza forze strane aspetta aspetta cosa? cosa? cos'è? c'era qualcuno richiesto alla cassa 4 ma basta come dire basta come dire no no troppe cose troppe cose troppe cose troppe cose troppe cose troppe cose cosa vuoi da me cazzo voglio che tu vada a letto e dorma bene vai la no no prendere il diario fai solo che diventi mattino non si pieta tu cos'è? ma basta non lo so la testa è no non è porca miseria avete rotto basta se è la 3 che continua a chiamarmi per avere il credito cosa vuoi la picchio si è la 3 ok dobbiamo andare oh vodafone sarà vodafone la picchio ancora di più oddio 9 agosto in due giorni ah tra due giorni saranno sei anni che sono insieme a kazuki ok ho deciso di fare il suo piatto preferito sono sicuro che e ah si è una dovrebbe essere una ragazza perché 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 si insieme a kazuki perché no l'uil gli piacerà lui 10 agosto kazuki ha detto che ha un'importante gita cioè tratta di lavoro domani ehm ho quasi fatto tutto lo shopping non posso dargli il mio regalo 11 agosto beh oggi sono sei anni con kazuki ehm so che sta lavorando duramente sono stato un po' troppo cattiva al telefono ieri mi spiace mi spiace ehm dolcezza su di aria wait for me oddio mi hai cambiato tutto what non lo so non lo so oh mio di no non lo so non lo so perché ha un fuoco viola c'è un fuoco viola certo ma what va bene arrivo arrivo ma se c'era su una ria prima c'era la vibrazione comodini assassini state fermi cosa vuoi da me a cari basta cari basta chiamarmi porca la smetti lettere strane dal demonio ah proprio basta ah però non si può prendere basta siamo usciti già l'hai tu ridi tu ridi vanno al candela cazzo ok era goku questo fa male era un dei pugni di goku credo cos'è della telecom ah avverrò a visitarti domani ah basta bastarci sopra e leggerla ma ah e notizie notizie ok che bello oddio che bello sta venendo sta venendo o sono malissimo? eh si però sta venendo in un altro senso cioè amico mio se anche non vieni a me fa niente capito oddio perchè ha fatto i passi dietro? non lo so amico se anche non vieni fai un piacere a tutti fai lo stesso fai lo stesso stati nell'aeroporto stati lì ma è una donna questa sei ah io sono due elettro qui cos'è? abbracciala controlla la stanza ascolta non so cosa vuol dire scalda 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 no no non lo so non lo so vieni qui vieni qui sei un po' brutta però ti abbraccia lo stesso vieni lo stesso dopo vomito ah ma ma c'è lui era quello ma tu sei lui ma era una femmina non voglio lasciarti da sola fareò quello che posso non voglio lasciarti davvero? si si davvero 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 ho toccato di si davvero davvero si sono felice ok oh la perchè hai diventato una figa eh si perchè happy hand we are together yeee forse sarà stato picchia l'altro si è passato non devi farlo facciamo si ma stai uscendo un po' lungo quindi magari vogliamo farlo la prossima volta ok ok ragazzi abbiamo fatto la prima parte vedremo la prossima volta la prossima volta però vabbè quindi se vi è piaciuto lasciate un commento se ti mi piace iscrivetevi e noi ci vediamo la prossima parte di questo carino horror lo userei dire a parte un infarto però bella ragazzi vai vai voilà porte i regali che ci sono già spesi spesi perchè ha una gamba che c'è che c'è qui è che c'è che c'è Grazie a tutti.